Sì, oggi è stata una partita un po' segnata da quello che era comunque il divario tecnico tra le due squadre, purtroppo, però bravi i ragazzi di Treviso che hanno questa tecnica importante. Noi abbiamo fatto il nostro meglio per poter arrivare a giocare un po' alla pari, abbiamo fatto quello che potevamo, sono contento dei ragazzi perché veramente hanno dato anima e corpo tutto l'anno, quest'anno siamo arrivati a un traguardo non facile e quindi sono contento anche della partita come è andata oggi, sono stati veramente bravi. Adesso c'è la fase regionale, speriamo di dare il massimo anche lì, di migliorare sempre, sicuramente lo faranno perché sono veramente testardi, coraggiosi e hanno voglia di imparare, quindi speriamo che vada tutto per il meglio. Sì, la nostra dirigenza sta lavorando tanto per migliorare il settore anche giovanile oltre che quello di alto livello. Stiamo cercando di migliorare tutto da parte dello staff, dalla parte degli atleti per dargli tutto il possibile per migliorare, per alzare il nostro livello.